Pazzesca, sopra si vedeva tutto, anche se forse c'era un po' di peschia, però si vedeva tantissimo, una figata. Hai provato a pilotare anche tu un po'? Sì, un pochino, sì. Abbiamo fatto due virate, due salite e discese. Sì. È un futuro pilota. Bene. È un futuro pilota. Grazie. A te.